Ok, ciao sono Ugo Decresi e mi occupo di fauna selvatica. Allora, il giorno 20 luglio abbiamo installato un totem di ripresa, un tronco, con una struttura del tutto ovviamente naturale, nella località di Vobbia, nel comune di Vobbia, perché a Vobbia da tempo sono attivi veramente tanti progetti, dai chirotteri in poi, e quindi abbiamo veramente tanti riferimenti e tante conoscenze, e quindi abbiamo deciso di effettuare questo primo test, questo esperimento che si effettua per la prima volta sia in Italia che nel resto d'Europa, a quanto mi consta, cioè quello di installare una fototrappola dando informazioni condivise alla cittadinanza, perché l'obiettivo è quello del lavoro che faccio e porto avanti insieme a fondamentali amici che mi seguono e che io seguo a mia volta da tempo, cioè persone con le quali condivido la stessa passione, lo stesso studio della fauna selvatica e soprattutto lo stesso modo di lavorare, cioè quello di non tenere i dati nel cassetto ma condividerli. Da diversi anni siamo orientati a fornire questi dati, ad allargare la conoscenza anche alla cittadinanza, e abbiamo scoperto che i feedback che ci arrivano sono del tutto positivi e entusiasti e vogliamo continuare su questa strada, vogliamo continuare ad informare i cittadini su quella che è la vita della fauna selvatica, che troppo spesso viene o demonizzata o viene trattata in maniera sbagliata, proprio per la scarsa conoscenza. Quindi abbiamo instaurato un canale di comunicazione, una rete che consta di tantissime persone ormai in Appennino e in Valle d'Escrivia e con loro condividiamo i dati e condividiamo la conoscenza. Non facciamo del male a nessuno e quindi speriamo e pensiamo che sia utile, anzi siamo del tutto convinti che possa essere utile. Quindi, ripeto, il 20 luglio abbiamo installato questa fototrappola nel comune di Vobbia e ne abbiamo dato notizie a tutti gli abitanti, quindi a tutti abbiamo detto attenzione, vediamo che cosa transita nel rio Fossato, nella parte praticamente vicinissima al paese, anche perché in passato è stato visto un lupo, quindi il lupo è un animale che seguiamo e seguiamo, io personalmente seguo dal 2001, ma il lupo fa parte di un ecosistema, quindi vediamo che cosa c'è insieme al lupo e soprattutto vediamo di presentare questi dati. Prossimamente faremo una serata a Vobbia, se tutto va bene, e il nostro intento era quello di tenere la fototrappola per 30-45 notti. Purtroppo ho dovuto rimuoverla prima e sono infinitamente grato davvero a tutte le persone con cui sono in contatto a Vobbia perché si dovevano eseguire dei lavori all'interno del fiume e quindi ovviamente immediatamente abbiamo rimosso la fototrappola. Quindi la fototrappola ha lavorato dal mattino del giorno 20 luglio alla sera del giorno 25 luglio e quindi andiamo a vedere che cosa ha ripreso, anche se in primis vi devo dire che la fototrappola ovviamente in un campo così grande e in un campo così suscettibile, in un'area così suscettibile di movimenti, la fototrappola scatta quando il sensore di movimento o il sensore di luce cattura una differenza o di luce o di calore o di movimento e scatta una fotografia. È ovvio che basta che passi una macchina dal ponte, però il nostro intento era proprio quello di coinvolgere sia i cittadini e perché no istituire anche un volano turistico affinché vi sia contezza che Vobbia determina questo primo test in Italia perché siamo i primi in Italia a farlo, questo test per cui la citizen science, cioè la condivisione degli studi scientifici, coinvolge davvero tutti i cittadini. E ne siamo davvero molto felici. Quindi ovviamente vi sono stati moltissimi scatti a vuoto per il passaggio delle macchine, per la differenza di luce che ha catturato il sensore e poi per altri motivi per cui non vi annoio. Andiamo alla prima immagine che si è generata proprio il 20 luglio alle ore 16 e 26 e si tratta di Ardas Cineria, aerone cinerino. Questo aerone è stanziale, è praticamente sempre nel rio Fossato. Una breve panoramica di immagine di ciò che vede la fototrappola. A destra e in alto vedete il campanile della chiesa di Vobbia con tutto il nucleo storico di fronte sostanzialmente a quella che è, spero di non dire una sciocchezza, ma dovrebbe essere la località Torre che poi ci porta a una zona che prossimamente vorremmo esplorare davvero molto bene che è la parte di Cravi e tutto quanto. Quindi prima immagine che viene generata dalla fototrappola è il 20 luglio nel pomeriggio con questo aerone cinerino che è stanziale e potete vedere perché ovviamente attua la sua tecnica di caccia proprio nel laghetto che si trova alla sua destra. Andiamo avanti e questa immagine riprende a destra una volpe, potrebbe anche sembrare un tasso, ma in realtà si tratta proprio di una volpe perché è alla punta della coda bianca e ci mostra anche il borgo di Vobbia, il comune di Vobbia in fase notturna. È stata ripresa alle ore 22 e 47, quindi sono quasi le 11. Guardate oltre il crinale, comunque in ogni caso come il sensore della fotocellula recepisce la luce e quindi in base a questo ovviamente scatta e genera delle fotografie. Andiamo avanti perché alle 23 e 22 c'è proprio un lupo. Il 20 luglio sta transitando praticamente verso il rio Fossato, quindi di fronte alla fototrappola. Questo che vedete con questi due occhi un po' sfalsati dal movimento. Abbiamo impostato la fototrappola come foto e non come video, altrimenti sarebbe stato troppo lungo veramente cercare di illustrare e commentare i 400 scatti che ha fatto. Sarebbero stati 400 video, quindi si generavano una cosa forse troppo pesante. Quindi questo è un lupo che passa alle 23 e 22 del 20 luglio 2022. Andiamo avanti perché abbiamo un cinghiale che è stato catturato dalla fototrappola a mezzanotte e mezza del 21 luglio. 2022. Andando ancora avanti abbiamo quello che è un capriolo. La data è il 21 luglio 2022 e sono le ore 5 e 56. Questi sono tutti animali che i cittadini di Vobbia vedono regolarmente. Parlo sia del lupo sia del capriolo. E qui bisogna aprire una parentesi in merito alla pericolosità di comunicare dove si trovi un lupo. Non c'è più quella situazione. O perlomeno non in tutti i casi bisogna distinguere caso per caso, bisogna circostanziare caso per caso. Ma teniamo da conto che le tante persone che abitano a Vobbia, che lavorano e che si spostano in orari proprio come questo alle 6 di mattina, hanno e soprattutto sono una fonte importantissima, un riferimento importantissimo, perché vedono proprio questi animali. Sia d'estate che d'inverno. Quindi alle 5 e 56, praticamente alle 6, abbiamo questo capriolo il giorno 21 luglio. Andiamo ancora avanti e questa è una volpe. Alle 2 e 23 del 22 luglio 2022. Andando ancora avanti abbiamo ancora la volpe che si dirige verso il centro di Vobbia. Apro un'altra parentesi per dire, attenzione, mai dar da mangiare le volpi. In particolare nella strada tra Vobbia e i crocefieschi, in passato purtroppo ha dovuto registrare la morte di tre volpi che erano confidenti. Nel corso degli anni hanno imparato a capire che dall'uomo avrebbero ricevuto cibo, però questo gli fa correre innanzitutto un grandissimo rischio per quanto riguarda l'impatto con le auto e secondariamente gli fa perdere quella impronta genetica che gli permette di cacciarne al bosco. Quindi per favore il consiglio è sempre quello. Non date da mangiare le volpi. Andiamo avanti e troviamo questa immagine che ritrae proprio un'auto sul ponte. Noi abbiamo specificato pubblicamente che la fototrapper era proprio visibile dal ponte. E siamo felici di poter osservare proprio questa immagine che se ingrandite ritrae sia il comune di Vobbia, sia il ponte, sia il rio Fossato, ora quasi in secca, ma soprattutto una femmina di capriolo praticamente sotto il ponte. Questo alle ore 15 e 41 in pieno pomeriggio. Quindi ripeto, gli abitanti di Vobbia hanno una capacità maggiore favorita dal fatto che vivendo in questa zona così ricca di biodiversità hanno la possibilità davvero di vedere di giorno e di notte gli animali della fauna selvatica di cui mi occupo. Andando ancora avanti, vi posso mostrare nuovamente il lupo che dal rio Fossato si dirige verso il basso, cioè verso il torrente Vobbia, alle 4.01 del 24 luglio 2022. C'è da preoccuparsi? Assolutamente no. Negli ultimi dieci anni i lupi frequentano moltissimo le cosiddette aste fluviali, proprio gli asset fluviali sono delle grandissime vie di comunicazione per i lupi e chissà quante volte sono passati questi animali, ovviamente in maniera elusiva, senza che noi ce ne accorgiamo. 4.01 del 24 luglio 2022, a destra vedete un lupo. Qui abbiamo una femmina di daino. È un animale molto bello. È stato ritratto alle ore 7.11 del 24 luglio 2022. Ci avviciniamo quindi praticamente agli ultimi giorni di lavoro della fototrappola. Qui abbiamo ancora l'Airona e Cinerino in due immagini, sempre alle 3 del pomeriggio. E qui abbiamo nuovamente il lupo, con un passaggio alle ore 5.45 del 25 luglio 2022. Sta tornando verso il rio Fossato. È sempre un lupo da solo, quindi cambia sostanzialmente sia la tecnica predatoria, sia la capacità predatoria, sia la strategia predatoria. Un lupo da solo ovviamente non ha necessità e la capacità di poter predare ungulati di grandi dimensioni e quindi deve un po' accontentarsi di mangiare, insomma, in altre parole, quello che trova. In ogni caso abbiamo questa ricchezza davvero di biodiversità, questa ricchezza di dati, con il passaggio di questo lupo alle 5.45. Abbiamo l'ultima immagine, si tratta della mattina del 25 luglio alle ore 9.09 e a sinistra vedete un capriolo maschio adulto con un bellissimo palco, sbuca praticamente dalla parte boschiva a sinistra. Vi sono molti transetti, non solo nel rio Fossato, che ovviamente convergono verso l'asta fluviale. Con questo abbiamo concluso, io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi ringrazio in generale soprattutto perché molte persone hanno visto la fototrappola e l'hanno lasciata lavorare. Per me è un dato veramente importante di cui davvero vi ringrazio di cuore e alla prossima! Ciao da Ugo De Cresi, buona natura a tutti!